Voglio dimostrarvi quest'oggi che l'ecosistema imprenditoriale padovano è un ecosistema imprenditoriale votato all'innovazione. Questo per storia e per tradizione. Non è un caso se a Padova abbiamo il primo orto botanico della storia. Non è un caso se a Padova vediamo laureata la prima donna al mondo, la regina Cornaro, e da pochi giorni anche la prima presidente del senato italiano. Ma a Padova abbiamo anche la prima fiera campionaria della storia d'Italia. Ecco allora che è tipicamente italiano quello di volersi freggiare e di giocare le sfide dell'oggi guardando al passato, ma noi crediamo sia fondamentale invece vivere il presente e riuscire a progettare il futuro. Ecco allora che come vedete noi abbiamo questi due ingredienti che a Padova esistono e sono simbolo della nostra città. Da una parte l'impresa e dall'altra la ricerca. Siamo forti a fare impresa, dopo ve lo dimostrerò, e forti a fare ricerca. Fare ricerca, fare impresa insieme significa fare innovazione. E allora Padova dovrebbe essere una delle prime città a livello europeo, a livello di innovazione. Ma così non è, perché per fare una buona ricerca non basta avere dei buoni ingredienti, bisogna anche saperli mischiare. E quello che voglio dimostrarvi è il progetto che noi abbiamo con l'amministrazione e con tutte le istituzioni della città per riuscire a far sì che questi ingredienti che noi abbiamo e consideriamo buoni si mischino e riescono a creare nuovo valore aggiunto per il nostro futuro. Ecco allora che immaginiamo il nostro ecosistema come un corpo, con un cuore, pulsante e con una testa. Il cuore è il sistema delle imprese padovane. 117 mila imprese con un prodotto interno lordo totale di quasi 40 miliardi di euro. Pensate che le prime dieci aziende italiane fatturano insieme quasi, anzi oltre 7 miliardi di euro. Siamo terzi in Italia per il numero di imprese nell'ICT. È un cuore pulsante ed è un cuore che grazie, non solo a Padova è evidente, ma all'economia europea e mondiale sta palpitando e pompando in maniera importante. Infatti vediamo che tutti gli indicatori di questo comparto, cioè le nostre imprese, sono positivi, trainate dall'export e finalmente anche da un'occupazione che torna a salire. Questo è il cuore dell'ecosistema. La testa è invece dato dal sistema della ricerca, la nostra università, il nostro sistema della ricerca. Considerate che Padova ha per il terzo anno nel podio del Censys il proprio Ateneo. Quindi tra i mega Atenei italiani, noi siamo il terzo, quest'anno sono gli Atenei con oltre 40 mila studenti, Padovani ha oltre 60 mila. E considerate il fatto che per quanto riguarda invece la ricerca pura, quella che fa l'università, siamo eccellenti in 11 aree, i primi in Italia. Quindi quello che ci chiediamo a questo punto è come fare a mettere insieme questa eccellenza, questo grande tessuto imprenditoriale e questa capacità di fare ricerca e questa forza, questa energia della nostra università. Abbiamo immaginato un progetto ambizioso, audace, che stiamo mettendo a terra. Un progetto che sta a immaginare e individuare un luogo della città per noi fondamentale, che è la Fiera di Padova, una fiera a 5 minuti dalla stazione e una fiera che è una delle uniche in Italia ad essere praticamente in centro a Padova, perché la nostra fiera in 10 minuti sei nel centro storico e innestare in quel luogo, che è il luogo dell'impresa, la nostra ricerca. Ecco allora che abbiamo immaginato questo campus che stiamo sviluppando in cui innoviamo il modello stesso di fiera. Il modello di fiera si trasforma perché all'interno della nostra fiera inseriremo a il Competence Center SMACT delle tre Venezie. Participeremo al bando di calenda alla fine di aprile, però consideriamo di riuscirlo a vincere. Diventerà il crocevia in cui le tecnologie SMACT incontrano le aziende, in quel luogo. A fianco ci sarà l'incubatore della nostra università, buono non quanto all'USN Labs, più piccolo ovviamente, ma anche noi siamo riusciti a raccogliere con Flume, che è un etilometro, noi veneti sapete che lo sprizzi ci piace, digitale un milione, oppure con la blockchain nella filiera dell'agri-food altrettanti risorse. Quindi abbiamo un grande incubatore universitario che insisterà in questo stesso luogo, avremo uno spazio di co-working per far lavorare lì a fianco start-up e piccole medie imprese e ci saranno gli studenti, perché lì davanti c'è tutta la filiera dell'ingegneria padovana, che troverà in quel luogo anche i laboratori per sperimentare le tecnologie che stanno utilizzando. Ecco allora che si creerà dal nostro punto di vista un'economia circolare, dove in un luogo dove le imprese possono andare a rappresentare le loro eccellenze, quelle stesse imprese che erano espositori diventano fruitori di innovazione. Innovazione votata, ho finito, votata, innovazione votata a queste start-up che trovano in quelle imprese il loro primo cliente, per riuscire a dimostrare che i servizi che stanno immaginando possono funzionare all'interno e per la ricerca riuscire a metterle realmente a terra. Questo è un disegno che è partito, non sto raccontando chiacchiere, la nostra Camera di Commercio ha 100 milioni di euro da investire nei prossimi anni all'interno di questo progetto, con a fianco l'università e l'amministrazione comunale. Lo stiamo facendo, a ottobre 2018 avremo il primo padiglione pronto per fare entrare i laboratori dell'ingegneria e speriamo davvero di avere la possibilità di raccontare tutto quello che stiamo facendo a Istanbul il prossimo aprile. Grazie davvero!